La sveva palacanestro Lucera si gode il primato in Serie C Silver e domenica 5 dicembre alle 18 presso il palazzetto dello Sport di Lucera incontrerà il Monopoli. La squadra avversaria staziona in bassa classifica due punti. Sarà dunque un'occasione per gli svevi per consolidare la prima opposizione condivisa con la Dinamo Brindisi. Campionato di Serie D maschile di pallavolo, la New Volley Lucera reduce da due vittorie consecutive e terza a sei punti in classifica. Le prime due posizioni sono occupate da pallavolo Gioia e Cassano a nove punti. Nel prossimo weekend è previsto un turno di riposo per tutte le squadre. Il prossimo impegno per i pallavolisti lucerini sarà dunque sabato 11 dicembre al palazzetto Carbonara di Bari contro l'amatori volley.